Veniamo alla partita, il Cesena ha tenuto bene il campo, Vellicanò è stato impegnato sin dall'inizio da D'Agostini e Traini, poi al 33esimo, Limido direttamente dall'angolo, Beffave Viola con questo bel tiro a rientrare. Al 42esimo Pellegrini si presentava davanti a Rossi, ma il portiere si salvava così. Nella ripresa la riscossa a Viola, l'ottavo appoggio di Dunga per Baggio e preciso fin dentro alle spalle di Rossi, 1-1. Al 25esimo era Baggio a restituire la palla a Dunga, gran botta e palla in rete, il volgo 2-1. Al 38esimo la terza rete, Pellegrini scambia con Baggio, cross e testa di Borgonovo. Poi c'è stato questo show di Baggio e proprio allo scadere di Chiara finiva a terra. L'arbitro decretava il rigore, Baggio metteva a segno la sua dodicesima rete e poi commentava così. Noi abbiamo cercato di giocare per la Fiorentina e poi anche per Eriksen. Queste voci influiscono sul rendimento della squadra? No, le voci non sono importanti per la squadra secondo me perché tutti qui sono veramente professionisti e tutti sanno che il campionato finisce 25 giugno.